Per rispondere a questa domanda parto facendone un'altra, se la crisi economica che stiamo vivendo a livello mondiale rallenterà o invece spingerà maggiormente verso quella che si sta definendo come green economy. Io sono convinto, ma ci sono tutti segnali, che proprio perché siamo in una condizione di crisi, quando ci sono le condizioni di crisi la necessità dei cambiamenti diventano decisamente più urgenti. E quindi la necessità, e ci troveremo sicuramente con anche i governi che dovranno in qualche maniera con i pacchetti di stimolo andare a investire delle notevoli anche quantità di ideano. E chiaramente dovendolo fare si può fare in tanti modi e le indicazioni e le avvisaglie che si vedono pensando agli Stati Uniti o al mondo anglosassone è sicuramente un voler spingere verso una cosiddetta green economy. E da questo punto di vista sicuramente anche i consumatori e la necessità in qualche maniera da parte delle aziende di andare a differenziarsi rispetto ai vari concorrenti. Il tema della sostenibilità, che ormai sta diventando una parola in cui è abbastanza usata, così come il carbon footprint. Era un tema che è una parola che una decina, 5-6 anni fa era assolutamente sconosciuta e oggi invece viene utilizzata, sebbene molti non sappiano cosa vogliono dire, ma lo legano sicuramente ai cambiamenti climatici e a quant'altro. In Inghilterra vediamo che ad esempio alcuni prodotti iniziano già a mettere l'impatto verso il carbon footprint sugli scaffali, sui prodotti. Ed è sicuramente una strada che verrà seguita anche all'interno dell'Europa, ma non solo, perché la possibilità in qualche maniera di differenziarsi e di differenziarsi nella modalità con cui, come è fatto il prodotto e soprattutto come è realizzato il suo possibile impatto verso ad esempio i cambiamenti climatici o l'ambiente, risulterà sicuramente uno dei temi dei prossimi anni, sulla quale stiamo già iniziando a vedere, si sta iniziando ad affrontarlo, tra l'altro direi anche in modo molto più concreto. Siccome stiamo uscendo da un periodo in cui si parlava in maniera più ideologica della parte ambientale, ci sono le cose buone e le cose cattive, iniziamo a scoprire che il mondo dell'ambiente è un mondo complesso, perché il sistema è un mondo complesso e che quindi le soluzioni risultano essere complesse, ma che proprio per questo motivo c'è la possibilità di trovare soluzioni da un punto di vista ambientale e sostenibile decisamente interessanti, la sfida sarà come comunicarlo in maniera semplice ai consumatori, perché il vero tema di questo è, sono argomenti complessi ma che in qualche maniera poi vanno semplificati per poter orientare in qualche maniera o proporre ai consumatori un determinato offerto di prodotto.